Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 per lavori fino al 28 febbraio chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. In direzione Roma fare attenzione per materiali dispersi segnalati tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla statale 1 Aurelia è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in frunita. Ricordiamo infine l'obbligatorietà delle dotazioni invernali a bordo per le vetture. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!